Li vediamo presenti con un sontuoso costume, indossano appunto le signore su costume Savanettera, su bistili de Savanettera, perdon, e signori su bistili dei guerradori, tradizionale appunto è il copricapo Subivinone, notiamo la signorilità dell'abito, grazie amici di Cagliari che siete venuti a questa manifestazione. Oggi il gruppo folclorico Città di Cagliari ci presenta appunto due balli, Suvassa Adresi e Suballo Brincao, accompagnati all'organetto diatonico da Davide Magia, quartiere di Villanova, Città di Cagliari. 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 Città di Cagliari.